Ciao, mi chiamo Vincenzo Gaeta e nella vita faccio l'infermiere, attualmente vivo in provincia di Varese e la mia esperienza in Airforex inizia parecchi anni fa, con l'acquisto anche di alcuni libri, corsi e in effetti seguo Airforex, sì, seriamente dal 2016, quando poi decisi di acquistare il corso sull'FTV. Diciamo che attualmente, e siamo nel 2024, mesi fa ho deciso di aderire al progetto dell'Accademia, con tanti ma a sé e perché anche, nel senso che ancora adesso, tante volte credo che la mia adesione all'Accademia sia più una ricerca di crescita a livello personale, forse il trading in effetti è quasi una scusa, cioè ho quasi un mezzo per in qualche modo mettermi alla prova, testare quelli che possono essere i miei punti deboli, ma non tanto sul mercato quanto proprio nella vita, perché sì, forse il vero motivo per cui mi sono avvicinato all'Accademia è proprio la voglia di migliorare come persona. tante volte è emerso anche il sospetto che questa potesse essere una qualche forma di, diciamo così, di autoinganno verso il vero motivo, cioè quello del guadagno, cioè della crescita più che personale economica. E quindi io credo che in realtà questo non sia un autoinganno, ma in realtà è proprio quello che io sto cercando, cioè crescere come persona. Un po' anche, come dire, in sintonia con quello che ho fatto in passato, dove ho effettivamente fatto da vari percorsi che io ritenevo in quel momento funzionali per la mia crescita personale, che spaziavano da corsi di psicologia, corsi di medicina olistica e io credo che, cioè adesso che sono sul percorso dell'Accademia, il valore aggiunto di questo percorso che tu ti accorgi di alcune cose che hai dentro che non sospettavi. Anzi, loro ci tengono a chiarire quello che sono gli obiettivi del percorso, sia da parte loro come formatori e poi ti accompagnano anche a scoprire quali sono i tuoi sani obiettivi. E quindi, alla fine io credo che il mio sano obiettivo principale sia quello di crescere come persona. Poi io spero che il scoprire di essere poi capace, profittevole sui mercati, spero che sia un effetto collaterale.